Eccoci in diretta, già mi sono appagnato, come vedete vedere la barriera frangifurti è crollata e qui sono molto preoccupati perché ormai praticamente non c'è nessun schermo disposto a fermare il mare e qui vedete le case, completamente la preoccupazione che questa serie ce la pare, come previsto, dovesse continuare ad essere così forte che possa provare ulteriori gravissimi danni all'epitazione del piccolo rincosso della barriera frangifurti. Ma vedete, lì sotto ancora tieni, ma è in questo punto in cui la costa si corva, si inclina e viene presa divietto dal mare, ma questa barriera è crollata miseramente. Questa sera speriamo di andare a rilumentare l'ennesco di un disastro qui da Cala di Marina. Per il momento è davvero tutto dal bagnatissimo... ...danno giù di nessuna sette, vi saluto molti ragazzi! ...